Ultimo minuto, purtroppo, abbiamo perso l'opportunità di ingaggiare un fuoriclasse, che ha deciso di passare all'Inter in un'offerta dell'ultimo minuto. Quello che è successo con Turam è durato circa 20 giorni, ma l'Inter è arrivata in finale e si è assicurata l'ingaggio dell'attaccante francese. Giorgio Furlani e la sua squadra hanno lavorato duramente per portare Turam al Milan, ma non sono mai riusciti a mettersi d'accordo su uno stipendio, che ritenevano alto. Tuttavia, Turam ha recentemente aperto la sua decisione e ha risposto che potrebbe affrontare i fischi dei tifosi del Milan, nel derby. Continua a guardare il video per maggiori informazioni e iscriviti al canale per ricevere direttamente le notizie quotidiane dal Milan. Eh, sicuramente i tifosi del Milan si arrabbieranno con me. Ognuno fa le proprie scelte e so perché l'ho fatto. Nonostante la sconfitta di Turam, la nostra squadra non si è fermata. Con determinazione. Abbiamo continuato a lavorare sul mercato e alla fine abbiamo deciso di ingaggiare Noah Okafor nella posizione di centravanti. Sulla base delle richieste di stipendio di Turam, la firma dell'attaccante svizzero risulta essere un'opzione più praticabile per il club. Ora vogliamo sentire la vostra opinione, fan. Cosa ne pensa della decisione di Turam di passare all'Inter? Sarebbe una grossa perdita per il Milan o l'arrivo di Okafor compenserà la sua assenza? Lascia i tuoi commenti qui sotto. Ora, dimmi, vogliamo sentire da voi fan. Cosa ne pensa della decisione di Turam di passare all'Inter? Sarebbe una grossa perdita per il Milan o l'arrivo di Okafor compenserà la sua assenza? Lascia la tua opinione nei commenti. Iscrivetevi al canale. Guardate gli altri video e rimanete sintonizzati perché vi porteremo in qualsiasi momento nuove notizie da Milano.